Il ritratto di Dorian Gray è un romanzo di Oscar Wilde pubblicato nel 1890 ed è uno dei capolavori della letteratura mondiale. Oscar Wilde aggiunse anche questa breve prefazione in risposta agli attacchi alle critiche pesanti ricevute verso la sua opera, ritenuta troppo scandalosa. E Wilde praticamente ci dice che non esistono libri morali o immorali. I libri o sono scritti bene o sono scritti male, questo è tutto. Ma l'artista non ha nessun fine morale. Il fine dell'artista è semplicemente l'arte. Il romanzo è ambientato a Londra alla fine dell'Ottocento e ci troviamo nello studio del pittore Basil Hallward che si trova insieme a Lord Henry Wharton. I due stanno discutendo dello suo ultimo capolavoro, il ritratto di un giovane bellissimo. Come vedremo nel corso della storia, questo Lord Henry è un personaggio molto particolare, molto intelligente, arguto e vorrebbe subito sapere il nome di questo giovane. E invita l'amico a esporre questo quadro a Grosvenor, cioè a una mostra, perché veramente è un quadro stupendo, meraviglioso, il suo quadro migliore. Però Basil rifiuta e, dopo le insistenze di Lord Henry che vorrebbe saperne di più, dice non posso esporlo perché ho messo troppo di me stesso in questo quadro. Lord Henry è sempre più incuriosito, insiste e scopre che questo giovane si chiama Dorian Gray. Basil a quel punto si arrende e comincia a raccontare come lui e Dorian si sono conosciuti a una festa. Fin da subito il pittore è stato completamente rapito dalla bellezza di questo giovane e, quando è in sua presenza, accade qualcosa di incredibile, di magico, di mistico. Infatti fino a quel momento non era stato un granché come pittore, ma in sua presenza praticamente riesce a diventare molto più bravo e quindi l'ha fatto diventare la sua musa artistica. Proprio in quel momento, mentre Basil e Lord Henry stanno discutendo, il maggiordomo annuncia l'arrivo di Dorian Gray. A quel punto il pittore vorrebbe che Lord Henry andasse via per concentrarsi sul dipinto. Però Lord Henry insiste, conosce il giovane Dorian e i due scoprono anche di avere un'amicizia in comune, la zia Agatha. Infatti Dorian a volte duetta al pianoforte con questa nobile donna. Dorian colpisce subito Lord Henry perché non solo è un giovane bellissimo, ma anche un'anima pura, candida. E da parte sua anche Dorian è subito affascinato dalla personalità di Lord Henry e insiste perché rimanga, anche perché mentre posa per Basil si annoia, invece Lord Henry dimostra di avere una certa intelligenza, una certa simpatia. L'unico scontento invece è il pittore Basil, non tanto perché è distratto dalle chiacchiere tra i due, quanto perché teme che la personalità di Lord Henry possa contaminare quella pura e candida di Dorian. Lord Henry si mette subito a filosofeggiare e a un certo punto si parla della bellezza, che per il Lord è un bene prezioso, però temporaneo perché un giorno svanirà, dice Lord Henry. Ora, ovunque andate voi incantate il mondo, ma sarà sempre così. La giovinezza è l'unica cosa che vale la pena di vivere, perché quando la giovinezza se ne sarà andata, la sua bellezza la seguirà e allora improvvisamente si renderà conto che non ci saranno più trionfi per lei e dovrà accontentarsi del ricordo del passato, soffrirà e allora approfitti della giovinezza finché la possiede. Quindi ragazzi, vedete che Lord Henry sa parlare e sa parlare anche molto bene, per questo è molto pericoloso perché può avere una certa influenza sul giovane Dorian. Tra l'altro, Lord Henry è anche uno dei personaggi più simbolici del libro. Le sue battute, le sue riflessioni sono poi diventate anche citazioni famosissime. E già solo per questo vale la pena di leggere il libro, proprio per vedere l'argursia di questo personaggio. Io scelgo gli amici per il loro aspetto e i nemici per la loro intelligenza. Riferisco le persone ai principi e soprattutto le persone senza principi. Comunque, nel sentire quelle parole, Dorian è sconfortato ed esprime un desiderio. Potesse davvero cambiarsi il quadro e io rimanere sempre come sono? Darei qualunque cosa per questo? Sì, non c'è nulla al mondo che non darei. Anche l'anima mia. E attenzione, perché da questo momento in poi tutto cambierà. E già qui Basil nota questa cattiva influenza di Lord Henry su Dorian. Vorrebbe anche distruggere il dipinto appena finito, però Dorian rifiuta. E quindi Basil regala, dona questo dipinto all'amico. Capitolo 3 Lord Henry va da suo zio, Lord Fairmore, per chiedere informazioni su questo giovane Dorian. E lo zio gli racconta che il giovane è nipote di Lord Kelso, il quale lo ha cresciuto lontano dal mondo dopo la morte dei suoi genitori. Per questo ha quest'anima pura, candida, non corrotta. La madre era Lady Margaret, cioè la figlia di Lord Kelso. Ed era una donna bellissima, con migliaia di pretendenti. Però aveva scelto un giovane di basso rango, un sotto ufficiale dell'esercito, dal quale aveva avuto Dorian. Questa cosa aveva in un certo modo disonorato Lord Kelso, perché aveva visto la figlia rinunciare a nobili aristocratici di alto livello per un semplice sotto ufficiale di basso rango. E si racconta che Lord Kelso avesse ingaggiato qualcuno per uccidere il padre di Dorian. E dal dolore era morta però anche la bellissima Lady Margaret, cioè la figlia di questo Lord Kelso, il quale alla fine aveva cresciuto il piccolo Dorian. Dopo questo incontro, Lord Henry si sposta a cena dalla zia Agatha, dove ci sarà anche Dorian. Dalle conversazioni tra questi nobili aristocratici spicca ancora una volta l'arguta ironia e intelligenza di Lord Henry, che affascina sempre di più il giovane Dorian. Oh Lord Henry, mi indichi un modo per ritornare giovane? Ricorda di aver commesso qualche grave errore da giovane. Molti purtroppo. Allora li commetta di nuovo, è l'unico mezzo per riacquistare la gioventù. Deliziosa teoria. Capitolo 4. È passato un mese e Dorian ha conosciuto una bellissima e bravissima attrice di teatro, una certa Sibyl Vane, di 17 anni, e non vede l'ora di farla conoscere a Lord Henry e Basil. Anche in questo capitolo vediamo che Dorian è sempre più legato a Lord Henry. Infatti è grazie a lui, ai suoi consigli, che ha fatto nuove esperienze, ha conosciuto il mondo, e grazie a lui ha conosciuto questa Sibyl. Mentre è sempre più distante dal pittore Basil, che è troppo noioso, vuole dargli consigli che lo limitano. Quindi Dorian si avvicina a Lord Henry e si allontana sempre di più da Basil. Alla fine del capitolo scopriamo anche che Dorian e Sibyl si erano baciati e quindi si erano fidanzati. Capitolo 5. Sibyl racconta felicissima la madre di questo suo nuovo fidanzato, di cui però non conosce il nome, quindi lo chiama Principe Azzurro, o anche Principe Gentile a seconda delle varie edizioni dei libri. La famiglia di Sibyl però è povera. Abbiamo anche il fratello di Sibyl Vane, che si chiama James, ha 16 anni, ed è in procinto di partire per l'Australia in cerca di fortuna. Lui però è diffidente nei confronti di questo nuovo fidanzato della sorella, e le promette che se solo le farà del male, tornerà e lo ucciderà. Capitolo 6. Dorian, Basil ed Henry si trovano a cena per andare a teatro per conoscere questa famosa Sibyl Vane, e anche qui vediamo che Basil è sempre più escluso, infatti dovrà cavalcare da solo perché nella carrozza c'è posto solo per due, solo per Henry e Dorian. Inizialmente Basil non è che prende bene questa notizia di fidanzamento tra Dorian e Sibyl Vane, però vedendo l'amico molto innamorato e felice, accetta e dà il suo parere positivo. Capitolo 7. I tre amici arrivano al teatro e assistono alla recitazione di Sibyl, però è un vero fiasco, infatti per la prima volta Sibyl ha recitato malissimo, e molti iniziano a fischiare, se ne vanno, tra cui anche lo stesso Basil e Lord Henry. Dorian invece resta e alla fine chiede spiegazioni a Sibyl, la quale confessa questa cosa, di non poter più recitare come prima, perché tutti i personaggi e i sentimenti, le emozioni che recitava prima erano falsi, mentre adesso, dopo aver baciato Dorian e aver scoperto il vero amore, è cambiato tutto, e sa che quelle cose che prima recitava erano false, mentre adesso, questo amore con Dorian è l'unica cosa reale che vuole vivere. A quelle parole però, Dorian non reagisce bene, è sconvolto. Lui l'amava per il suo talento, per la sua arte, e se quest'arte non c'è più, allora non la ama più, e quindi la lascia in un modo freddo e indifferente, nonostante la disperazione di lei. Capitolo 8. Al mattino Dorian si sveglia, ma a un certo punto nota che c'è qualcosa di diverso nel ritratto. Qualcosa è cambiato, infatti l'espressione del viso è un po' diversa da come se la ricordava, ha come un ghigno cinico, un sorrisetto crudele sulle labbra. Si guarda anche allo specchio, ma non nota nulla di diverso. E allora a quel punto si ricorda di quel desiderio che aveva espresso. E a questo punto inizia a chiedersi, ma vuoi vedere che quel desiderio veramente si è realizzato? Così è sconcertato, preso da un rimorso di coscienza, scrive subito una lettera per Sibyl, volendosi scusare del suo pessimo comportamento avuto con lei la sera precedente, e scrive anche che ha intenzione di volerla sposare. In quel momento a casa di Dorian arriva Lord Henry per consolarlo, e gli dice guarda Dorian mi dispiace per quello che è successo. E Dorian dice sì mi sono comportato male, però adesso rimedierò, ho deciso di sposare Sibyl Vane. E Lord Henry gli dice ma guarda forse hai capito male, non hai letto i giornali. Sibyl era morta, infatti si era suicidata ingerendo un veleno del teatro. Inizialmente Dorian è sconvolto nel sentire quella notizia, e Lord Henry è molto preoccupato per lui, ma non tanto per i suoi sentimenti, quanto più per la reputazione di Dorian. Se infatti venisse fuori il suo nome sarebbe uno scandalo. Dorian però non aveva detto a nessuno il suo nome, quindi Lord Henry si rassicura, e tranquillizza anche Dorian dicendo non ti preoccupare, non è successo niente, e così Dorian a un certo punto non prova più nessun senso di colpa. E capisce anche che sarà il ritratto a portare i segni non solo del tempo dell'invecchiamento, ma anche dei suoi peccati, delle sue cattive azioni. Quindi il ritratto sarà una specie di specchio rivelatore del suo vero animo, della sua coscienza, mentre il suo corpo rimarrà sempre giovane e bello. E sempre più indifferente, Dorian trascorre la stessa serata all'opera a teatro con Lord Henry, come se nulla fosse successo. Capitolo 9 Basil va a visitare Dorian il mattino dopo, per confortarlo della morte di Sibyl, la sua fidanzata, quella che lui diceva di voler sposare, che amava tanto, però è sbalordito perché trova Dorian che non prova alcun dolore, e anzi la sera precedente era stato all'opera con Lord Henry, come se nulla fosse successo. Quindi Basil, che conosceva Dorian prima di Lord Henry, nota questo grande cambiamento che sta avendo l'amico, e a un certo punto gli chiede anche di vedere il ritratto, perché vorrebbe esporlo a una mostra d'arte a Parigi. Però Dorian si spaventa, non vuole che l'amico noti che il ritratto è diverso da come l'aveva dipinto, e quindi rifiuta categoricamente, anzi, nessuno più dovrà vedere il dipinto, e per questo copre il quadro con un telo e lo nasconde in una sua vecchia stanza, chiuso a chiave, dove nessuno potrà più vederlo. Capitolo 10 Si è conclusa l'indagine sulla morte di Sybil Vane, ma il nome di Dorian non è venuto fuori, quindi è salvo da ogni scandalo. Dorian inizia anche a leggere un libro che gli aveva regalato Lord Henry, che narra la strana storia di un giovane parigino, il quale vive le passioni e i piaceri di ogni secolo precedente, e Dorian decide di fare lo stesso, di ricercare intensamente questi piaceri della vita. Capitolo 11 Passano diversi anni, e Dorian vive sempre più sotto l'influenza di quel libro, che ha letto e riletto tante volte, e quindi ha fatto ogni genere di esperienza, sempre alla ricerca del puro piacere, alla ricerca della bellezza, circondandosi di cose come i gioielli, abiti, stoffe, profumi. Intanto però a Londra si comincia a vociferare sul suo conto. Sempre più persone notano che il tempo passa, ma Dorian mantiene sempre il suo meraviglioso e giovane aspetto. Noi invece sappiamo che è il quadro a invecchiare, non lui. E sul suo conto girano anche strane voci, circa il fatto che Dorian avesse corrotto, avesse una cattiva influenza su giovani uomini e donne, e quindi alcuni conoscenti lo evitano sempre di più, ad eccezione di Lord Henry e pochi altri. Dorian viaggia anche molto, però non può stare tanto tempo lontano da casa, perché ha paura che qualcuno entri nella stanza e scopra il quadro. Capitolo 12 La notte del suo trentottesimo compleanno, Dorian e Basil si incontrano per caso dopo diversi anni. Basil è in procinto di partire per Parigi, però prima voleva parlare con Dorian, circa appunto queste cattive voci che circolavano su di lui. Inizialmente Dorian cerca di rassicurarlo, di dire guarda non c'è nulla di vero, però non è convincente. E dopo le insistenze dell'amico, allora a quel punto Dorian si scoccia e dice ok, adesso ti mostro la mia vera anima, ti mostrerò il dipinto e il ritratto che mi hai fatto anni prima. Capitolo 13 Basil all'inizio non capisce che cosa vuole dire l'amico, però i due salgono nella vecchia stanza dove si trova il ritratto. Dorian scopre la tela e si vede nel dipinto un volto ripugnante e Basil è inorridito alla sua vista. Stenta a credere che quel quadro è lo stesso che lui aveva dipinto anni prima. Se ne convince soltanto quando vede la sua firma e a quel punto capisce che l'anima di Dorian è totalmente perduta, che è molto peggio di quanto si dice in giro e di quanto lui stesso pensava. Così invita l'amico a pregare, a redimersi, a pentirsi dei suoi peccati, però a quel punto Dorian, accecato dall'odio, prende un pugnale e uccide l'amico. A quel punto si crea anche un alibi, infatti esce di casa di nascosto, per poi rientrare e farsi vedere dai camerieri a un'ora più tarda, in modo tale che nessuno lo può collegare a Basil, che invece era in procinto di partire per Parigi. Capitolo 14 Il giorno dopo Dorian si sveglia bello tranquillo, consegna una lettera al cameriere per un certo Alan Campbell, il quale arriva dopo alcune ore. I due già si conoscevano da tempo, però non si parlano da parecchio. Infatti Alan Campbell è un'altra persona a cui Dorian ha rovinato la vita, ma l'ha chiamato perché ha esperienza come chimico e gli chiede appunto di far sparire il corpo senza lasciare tracce. Campbell inizialmente si rifiuta, non lo posso fare, dice, però Dorian lo minaccia e gli dice, se non lo fai, io spedirò questa lettera che ti danneggerà moltissimo. E a quel punto Campbell accetta e porta a termine il lavoro. Alla fine spera di non dover rivedere mai più Dorian. Nel frattempo sul dipinto era comparsa anche una nuova macchia rossa, rosso sangue, proprio sulla mano con cui aveva ucciso l'amico e questo era l'ennesimo segno demoniaco del suo degrado, della sua degenerazione. Capitolo 15 La sera stessa Dorian è ospite a cena di una lady e tra gli ospiti ci sono vari nobili, tra cui lo stesso Lord Henry, il quale nota che Dorian non è del solito umore e come al suo solito fa diverse domande, un po' incuriosito, un po' insistente, che cosa stai pensando, che cosa hai fatto ieri sera, ma Dorian sta pensando che deve cancellare ogni traccia della sua colpevolezza legata a Basil e deve assolutamente sbarazzarsi di quello impermeabile della borsa di Basil, così alla fine si congeta dalla cena, torna a casa e li brucia, per poi uscire e andarsi a divertire tra i soborghi malfamati di Londra, che spesso frequentava. Capitolo 16 Dorian giunge in un posto malfamato dove si fuma oppio e qui incontra anche Adrian Singleton, un altro giovane conoscente. Prima di uscire vanno al banco per bere qualcosa e qui una donna lo chiama Principe Azzurro, esattamente come lo chiamava Sibyl. A quelle parole un marinaio di colpo si alza, esce e segue Dorian, lo raggiunge e lo minaccia con una pistola. Quest'uomo, signori, era James Vane, ovvero il fratello di Sibyl che oramai da anni stava cercando Dorian per ucciderlo e vendicare finalmente sua sorella. Lui non conosce il nome di Dorian, però nel sentire quelle parole Principe Azzurro ha capito che si trattava del fidanzato della sorella. Dorian è terrorizzato, sa che sta per morire, però improvvisamente gli viene in mente una scappatoia e gli dice Tu pensi che abbia fatto del male a tua sorella diciotto anni fa? Ma scusami, quanti anni pensi che io abbia? James quindi lo sposta sotto la luce di un lampione e vede che effettivamente questo giovane avrà sia no una ventina d'anni e quindi a quel punto James davanti all'evidenza si scusa, dice Guarda, mi sono sbagliato e lo lascia andare via. Dopo poco sopraggiunge anche la donna che era nella bettola e che l'aveva chiamato Principe Azzurro rivelandogli che in realtà anche si dimostrava di essere solo un ragazzo. Quel giovane era molto più vecchio e si dicevano cose strane sullo suo conto che avesse venduto l'anima al diavolo per rimanere sempre giovane e bello e allora James infuriato si mette alla ricerca di Dorian per ucciderlo però questi era già sparito. Adesso però sa il nome di Dorian Gray e quindi sa dove potrà trovarlo. Capitolo 17 Una settimana dopo Dorian è nella sua villa di campagna con vari ospiti tra cui sempre l'immancabile Lord Henry. Dorian si allontana per andare a raccogliere dei fiori. All'improvviso gli ospiti sentono un grido e un tonfo accorrono e trovano Dorian svenuto. L'aiutano a rialzarsi e Dorian tranquillizza tutti torna allegro ma in cuor suo ripensa a quello che aveva visto poco prima e cioè il volto minaccioso di James Bain che lo fissava dalla finestra. Capitolo 18 Il giorno dopo Dorian è ancora terrorizzato e confuso non sa se quello che ha visto era vero o solo frutto della sua immaginazione però non esce di casa per tre giorni proprio per la paura di essere ucciso da questo James. Alla fine però partecipa a una battuta di caccia e durante questa battuta di caccia per errore viene ucciso un uomo tra i cespugli che era stato scambiato per un animale Dorian è terrorizzato da questa cosa la vede come un presagio di morte la stessa fine che farà lui inizialmente tutti pensano che si tratta di un battitore cioè di quelle persone che raccolgono gli animali uccisi e li portano poi al cacciatore dopo poco però si scopre che non si tratta di un battitore che nessuno conosce quell'uomo vestito tra l'altro da marinaio quando Dorian sente questa parola marinaio si accende una lampadina vuole vedere il volto di quell'uomo che scopre essere proprio James Bane e Dorian a quel punto non è felice è risollevato si sente finalmente salvo perché il suo nemico era morto capitolo 19 lord Henry e Dorian stanno conversando e Dorian gli dice che ha deciso di cambiare di non voler fare più la vita di prima e di diventare buono e vuole anche dimostrarglielo infatti gli dice che ha fatto una buona azione ha conosciuto una giovane donna una certa Hetti si erano innamorati e volevano fuggire insieme però all'ultimo Dorian aveva rinunciato per non rovinare questa ragazza l'amico però replica dicendo che il suo comportamento in realtà le aveva soltanto spezzato il cuore non era una vera e propria buona azione anzi l'ha resa infelice per sempre il discorso poi passa ad altre cose come la scomparsa di Basil ancora non si sa che fine abbia fatto lo cercano a Londra lo cercano a Parigi ma Lord Henry spera solo che sia vivo Dorian però suggerisce che forse Basil fosse morto anzi forse era stato proprio lui ad ucciderlo a quelle parole Lord Henry quasi ride non vuole nemmeno prendere in considerazione questa possibilità dice che non fa parte della natura di Dorian e che anzi il delitto appartiene esclusivamente alle classi inferiori i due poi parlano di tante altre cose ad esempio Lord Henry gli chiede che fine avesse fatto il suo ritratto ma Dorian dice di averlo perso gli chiede anche il segreto della sua eterna giovinezza vi ricordo infatti che sono passati una ventina d'anni circa ma Dorian è sempre lo stesso e si scopre anche che Campbell cioè quella persona che aveva aiutato Dorian a far sparire il corpo di Basil alla fine si era suicidato capitolo 20 conclusione la sera Dorian sta meditando su alcune cose dette da Lord Henry e cioè davvero non si può cambiare veramente non c'era speranza per lui di redimersi e ripensa un po' a tutta la vita corrotta che aveva fatto alle tante vite che aveva rovinato per sempre vedi ad esempio Basil Campbell James Sibyl e tanti altri però oramai il passato era passato non si poteva cambiare ed era meglio non pensarci adesso infatti era molto meglio pensare a questa nuova vita che voleva vivere diventare buono e lui aveva già iniziato risparmiando questa giovane Ketty e pensando a questa sua tra virgolette buona azione si domanda se il ritratto fosse cambiato se fosse riuscito a renderlo meno orribile così incuriosito va a vedere ma quando toglie il telo non vede alcun mutamento anzi in più adesso c'è un'espressione di furbizia negli occhi una smorfia di ipocrisia sul volto e quindi capisce anche che quella che pensava che era una buona azione in realtà era soltanto ipocrisia un modo furbo di lavarsi la coscienza pensa anche all'eventualità di confessare tutto però chi gli crederebbe non solo non ci sono le prove che lo legano alla morte di Basil ma chi crederebbe a una storia del genere lo prenderebbero solamente per un pazzo e quindi ritenendo che tutto avesse avuto origine per colpa di quel quadro Dorian prende il coltello lo stesso con cui aveva ucciso Basil e colpisce la tela però a questo punto accade un fatto incredibile e straordinario perché Dorian cade morto come se qualcuno appunto l'avesse pugnalato al petto il quadro invece aveva riacquistato quell'aspetto che aveva all'inizio un giovane meraviglioso dal volto puro e ingenuo i servi che avevano sentito questo forte rumore accorrono ed entrano nella stanza trovano il bellissimo quadro originale e per terra invece un vecchio orrendo e un ripilante morto si trattava di Dorian Gray ma nessuno era riuscito a riconoscerlo ci riusciranno soltanto dagli anelli che indossava per cui ragazzi vi lascio con questa famosa citazione di Oscar Wilde e cioè state attenti a quel che desiderate perché potreste ottenerlo ciao ciao